Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Pilato disse a Gesù Sei tu il re dei giudei? Gesù rispose Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me Che cosa hai fatto? Rispose Gesù Il mio regno non è di questo mondo Se il mio regno fosse di questo mondo I miei servitori avrebbero combattuto Perché non fossi consegnato ai giudei Ma il mio regno non è di qua giù Allora Pilato gli disse Dunque tu sei re? Rispose Gesù Tu lo dici Io sono re Per questo io sono nato E per questo sono venuto nel mondo Per dare testimonianza alla verità Chiunque è dalla verità Ascolta la mia voce O che vuoi è la mia voce Grazie a tutti. Grazie a tutti.